Penso che il fatto di aver perso tanti giocatori, noi non ci siamo mai attaccati alla mancanza, però non abbiamo mai potuto dare continuità, perdiamo giocatori per degli infortuni banali, abbiamo 3 o 4 rotture di piedi che non succedono magari in 10 anni di carriera in una squadra, noi li abbiamo persi tutti insieme, poi rientra uno, esce l'altro dello stesso ruolo, i terzini non li abbiamo mai avuti insieme, troppe circostanze che sicuramente, oltre ai nostri demeriti che è inutile nascondere, ci hanno influenzato negativamente in questo mese, però ora bisogna svoltare, io non guardo mai indietro nel bene o nel male, parlare di sistemi di gioco io penso che adesso non c'è un sistema ideale, la cosa importante è lo spirito con cui si fa le cose, adesso dobbiamo uscire da questo momento negativo, insomma è stato un mese molto difficile per noi, per tanti motivi, sicuramente ci sono stati vari fattori che hanno influito su questi risultati, li abbiamo analizzati, però adesso siccome abbiamo fatto 3 mesi, 4 fatti bene, un mese non può cancellare tutto quello che di buono si era detto o fatto o parlato su di noi, è chiaro che veniamo da un mese difficile e la svolta può essere solo una vittoria domani, che deve arrivare in tutti i modi e cercheremmo di ottenerla. L'arrivo di destro, di Bocchetti e se ci sarà qualche ulteriore innesto, è arrivato Cerci, insomma tutti ce lo dimentichiamo, ma anche lui è in acquisto di gennaio, questo penso che faccia capire che la società ha voglia di far bene, se non avrebbe messo questi innesti, che mi avvicina, sono giocatori che avevo chiesto io, per cui sono molto felice, ringrazio il Presidente che mi ha regalato questi giocatori, adesso sta a me la squadra uscire da questo momento e regalare comunque delle buone prestazioni, perché ora dobbiamo tornare a giocare meglio, a giocare il calcio che avevamo fatto fino a un mese fa, per cui mi auguro che già da domani ci sia questo passo in avanti.